ciao ragazzi oggi siamo in pescella con la mamma e come sentite c'è la luce e ci sono i tuoni ci sono i tuoni che bello che bello che è bello che è bello che è bello che è bello senti davide asia è sempre intenta nel cercare le lucertole asia asia ecco qua la maialina e invece asia asia guarda la lucertola è qui asia guarda che è qui la lucertola niente o non ci casca la vista lì comunque davide oggi va così qui allora bene o male il sole c'è abbastanza va e viene ma di là guardate di là no ma guardate di là che roba adesso salgo anche sulla scala per vedere meglio mamma mia cos'è bello che performance sonora dimmi andrea vabbè grande grandissimo beh dai laza family è tutto passa è chiuso